Vag è composto principalmente da tre società, queste sono Rivacold, Vitri Frigo e Rav. Rivacold opera nel settore della refrigerazione, realizziamo gruppi frigoriferi per diverse applicazioni che vanno nei mercati dell'oreca, nei supermercati e medicale che è oggi un punto alquanto sentito. Vitri Frigo invece è un'altra società dove realizziamo frigoriferi completi per il settore del hotel, camper, navigazione e anche in questo caso per il medicale e soprattutto i portatili. Negli ultimi anni abbiamo investito anche nel laboratorio che l'abbiamo denominato VRL, ovvero Vag Refrigeration Laboratory e qui realizziamo tutti i test per quelli che sono i gruppi sia di nostra realizzazione ma anche a supporto della nostra clientela per le varie classi energetiche, per approvare le varie classi energetiche e verificare le temperature. Inoltre tutti sanno che il gruppo è nato nel 1966, è stato fondato nel 1966 ed è in continua espansione. Anche in questo anno di difficoltà abbiamo continuato con la nostra serie di investimenti e di crescita ad esempio abbiamo realizzato, stiamo definendo di realizzare la mensa appunto per uso interno e quello che è il discorso di un nuovo fabbricato da 25.000 metri quadrati. Nelle ultime settimane abbiamo sentito parlare spesso di vaccini che proteggeranno la popolazione dal Covid-19 e abbiamo sentito parlare anche di trasporti e di conservazione di questi vaccini che variano a seconda della tipologia di vaccino nelle varie temperature. Tutti i vaccini, come circa il 40% dei medicinali e del settore medicale, va mantenuto a basse temperature con protocolli e regole molto più stringenti di altri settori legati alla conservazione dei prodotti e alla refrigerazione. In particolare i dati relativi alle prestazioni dei motori e delle macchine che permettono di conservare i prodotti devono avere standard molto stringenti, dati certi, ripetibili e sicuri. Questo tipo di misurazioni possono essere fatte solo in determinati laboratori, uno dei quali è il WAG Refrigeration Laboratory, un polo di innovazione tecnologica e sperimentale unico nel panorama europeo, pensato, sviluppato e realizzato da Rivacold insieme all'Università Politecnica delle Marche. Proprio due anni fa abbiamo inaugurato questo polo, all'interno del quale, unico nel suo genere, è possibile sviluppare e analizzare macchine frigorifere in tutte le loro parti. Noi qua riusciamo a innovare, sperimentare e testare qualunque componente di un impanto frigorifero. Ciliegina sulla torta, due anni fa, abbiamo chiesto e ottenuto l'accreditamento internazionale del laboratorio. Ad oggi il laboratorio ha il marchio Accredia Dilac e i test sviluppati secondo normativa in questo polo hanno valore legale in tutto il mondo. I vaccini, come tanti altri prodotti medicali, hanno necessità di essere conservati a basse temperature che possono variare a seconda del processo con cui sono stati pensati e realizzati. Noi in RivaCold siamo in grado di sviluppare sistemi frigoriferi o componenti per sistemi frigoriferi che permettono di conservare e trasportare componenti, quindi anche prodotti medicali, da 0 gradi fino a meno 40 e abbiamo sviluppato anche progetti specifici per determinati clienti fino a meno 80 gradi centigradi. In questo periodo stiamo provando a testare nel Vag Refrigeration Laboratory un mix di impianto frigorifero e ghiaccio secco che permette di mantenere la temperatura di meno 80 immersa nel ghiaccio secco per un periodo abbastanza lungo. Inoltre concludo dicendo che nel Vag Refrigeration Laboratory è possibile testare e certificare classi energetiche ed etichettature energetiche di una vasta gamma di prodotti del settore della refrigerazione industriale. proprio per questa particolarità è uno dei pochi laboratori in Europa che permette questo tipo di analisi.